...ci sia un po' più di calma davanti al segno, vediamo, direzze davanti, o la cattiva d'esterno, vincere l'ora d'esterno, vincere l'ora d'esterno, vincere l'ora d'esterno, gradiamo molto, molto a ciò giusto, vediamo la stagione di Firenze con l'ora d'esterno, un pezzicone, molte miei ci avevano visto giusto, poi con il 677 primar davanti al nostro Fusneroli, non è che forse non ci ho contatti quanto ci sono, da fino a stagione, da un'ora d'esterno approfittando delle altre fermate, ma anche se non viene scatenato, ma anche all'attacco di l'ora d'esterno, come poco crediamo a vedere, c'è invece davanti da Silva approfittato nella strada libera, solo l'ora d'esterno, dietro a tutti i ammazzati la pavola, non è l'ora d'acqua di davanti, stiamo intanto a buttare un occhio, sono esattamente inundi da 18 che erano in partenza, quindi è stata una pazziglia totale. ... ... Vieni su, chiudiamo gli occhi e forse passeremo, in effetti, non è passato, l'avete a volte su? Ma piglielo, ma non ne azzecchi una! Ma mette gli occhiali! Vieni! 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 E la persona che arriva a te! Molte strage, non rimane, c'è un mr. è incatenato, sta andando la stacca di cammietta a Silva, ha recuperato dalla quinta la seconda provincia dell'I, è lì decisamente vicino, c'è intanto l'Italia che si è riappellato, al desterno dell'uscita della 5, dove adesso sono i primi, non abbiamo vinto di questi tracce, non possiamo vedere, l'Italia è tanto attivo, vuole a tutti pronti, attacca l'Italia, e l'Italia, e l'Italia, e l'Italia, e l'Italia, e l'Italia, e l'Italia, il più veloce è finché sta andando in 46,38, grande tempo per l'I, che va all'attacco dietro L'Italia, io quando mi prezo si stai prendendo la cadastro dell'I. Si prova, si prova, si si sta provando, si deve provare, ve la bombare, Fai, che sei lì, gran Intanto in testa posizione simone Villenezze, vai se sei davanti E si resta a piedi da terra, ma non lo stassi a venire, non lo vedi! Ma se non lo vedi, non lo vedi, non lo vedi! Ma non lo vedi a questo posto, ma non lo vedi, non lo vedi! E' il fatto che non lo vedi, non lo vedi! Intanto si albiene più nuova, perché forse non si riuscirà, e quando arriveranno qui, quando vedremo tutti, non lo vede! Ultime prove di retezzazioni di soffrazzo per i servieri, prima di attaccare direttamente intanto altra ventura ferma, non iniziamo a identificarla, ma è ferma, è fermo, potrebbe essere dell'otto. All'estate, se l'avventura si va a sensibilizzare, si ferma, il ruotatore di calore, aveva un minuto che la posse presa, la seconda di partenza, potevano avere la sua volta, ma è lì, eh? Ma è l'esercito, la seconda di partenza, adesso si arrivi davanti, deve condurre questa l'ultima curva, questo ultimo tentativo, sta arrivando a superare, tra quattro, arrivate Sternieri, grande prova, grande ritoria, Sternieri da Silva, terzo, terzo, quattro, soffi, con pezzicone, quinto, tutti erosi, in questa sconsigione, l'Evratti, andiamo a vedere l'Evratti e poi parla. Un pochie, in cese e mamma, con 3149, arrivano poche, un pochie in cese, ma è in mucata, lo prese no, si è sentuo. No, 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 no. Grazie a tutti.